ciao ragazze ciao ragazzi eccomi qua nuovamente con le nostre previsioni settimanali farò due stese con due mazzi di tarocchi diversi quindi scegline una come ti dico sempre una stesa per la tua settimana ma ascolta anche la seconda stessa come un messaggio in più allora prima di partire come sapete nello scorso video di giovedì scorso vi ho accennato che ho avevo ed ho purtroppo li ho ancora questi problemi post vaccino mi avete inondato d'amore una cosa una cosa io non io non mi so capacità proprio l'affetto vero puro si vede si sente non quelle frasi di circostanza proprio commenti sotto al video mail private una cosa chi mi ha detto l'avemaria chi mi ha detto rosario intero chi mi fa reiki chi mi manda messaggi di supporto chi ha condiviso con righe righe pagine di esperienza con questo con questo faccio io guarda sono senza parole allora vi aggiorno io non sto bene non sto bene anche perché sono molto sono impaurita non mi vergogno a dirlo io ho paura io ho veramente paura paura perché perché nessuno mi dice cosa lo dico io nel senso quindi la cura hai chiesto ma sì non sto di peggio non sto di peggio però ormai sono due settimane abbondanti che io questi sbandamenti cioè una ragazza mi ha scritto ed è esattamente il mio sintomo il movimento se muovo sposto gli occhi muovo gli occhi da un punto verso un altro mi sa nebbia la vista come fa per farvi capire quindi magari qualcuno può condividere con me se ha avuto un'esperienza simile avete presente nei film quando ci fanno vedere no che il personaggio viene drogato con della droga nel bicchiere no e fanno vedere la scena tutta che si annebbia e si sdoppia ecco a me succede quello quando muovo gli occhi da un punto all'altro ho proprio la testa ma non mi gira la testa a me non mi gira nulla è un discorso di vista cioè questi annebbiamenti questi sbandamenti capito ma non è che i giramenti di testo dio bonterra no 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 io cammino faccio le cose tutto quanto però ecco questi sbalzi l'oculista mi ha già visto la vista è perfetta l'otorino mi ha visto non è un discorso di vertigini dovute dall'orecchia il pronto soccorso mi hanno visto dice lei una nulla fatto sta che sto così ecco poi ci sarebbero esami più invasivi però se devo andare a farmi avvelenare tipo contrasti o robe varie per sentirmi dire che effettivamente sta il veleno del vaccino cioè anche no quindi io l'aiuto più grande che mi potete dare è dirmi se avete avuto come sintomi questi stessi sintomi che vi sto dipingendo io a me sono iniziati dopo circa allora domenica il lunedì le 36 ore quindi meno di due giù entro i due giorni entro i due tre giorni da dalla seconda dose ho fatto il pfizer 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 come lo volete chiamare da lì mi è partito tutto e sono già due settimane abbondanti e ripeto non sto peggiorando sono migliorata lievemente però insomma ancora sono un ballo c'è po da fare quindi la paura mi ha salito perché insomma non solo non mi dicono cos'ho nel senso lo dico io cos'ho non la risolvo quindi ditemi se avete avuto questa stessa esperienza e come avete risolto magari mi aiuta magari 15 giorni sono pochi magari no non lo so insomma ditemi voi grazie per l'affetto non l'affetto proprio l'amore che mi avete dimostrato perché questo è amore io non me lo credevo vi ringrazio allora vediamo i due mazzetti identifichiamo il primo mazzo di tarocchi con il quarzo rosa per il secondo mazzo di tarocchi gli diamo l'avventurina verde ok fai la tua scelta e andiamo subito a vedere la settimana cosa ti riserva io partirei dal quarzo rosa mettiamo il secondo mazzo qua come ti dico sempre guardali entrambi e anche se questa è la sua scelta ma anche nell'altro mazzetto vedrà oppure proprio magari è proprio quello il tuo a volte succede di non inciampare subito la scelta più giusta mettiamola così allora vediamo la settimana per il quarzo rosa partiamo però un attimino dagli oracoli i miei oracoli non ve l'ho detto se vi interessa acquistare o i miei oracoli o i miei tarocchi o le parole d'amore i messaggi lui e lei mandami una mail le carte di penelope chiocciola gmail.com e metti nell'oggetto info carte e poi mi chiedi quello che mi puoi chiedere ok perché le ho io qui con me andiamo a vedere la settimana per il quarzo rosa vediamo cosa accadrà quali sono le energie generali per le persone che hanno scelto il quarzo rosa qui mi è volata la decisione qui c'è una decisione siamo a un bivio e andiamo a vedere la stabilità per il quarzo rosa nella settimana cosa accadrà per il quarzo rosa ok la forza io ne tirerei altre due che dite facciamone cinque quarzo rosa il viaggio e la spia ma allora questa è una settimana in cui qui le carte ce lo dicono adesso vediamo naturalmente con i con i tarocchi in cui dobbiamo prendere delle decisioni o comunque fare delle scelte qui dobbiamo scegliere magari prima dobbiamo valutare o stiamo valutando un qualcosa da fare il percorso da intraprendere può essere naturalmente una decisione di qualsiasi tipo è che non si sa di cosa si sta parlando saranno adesso i tarocchi magari a a spiegarci a chiarirci meglio ok una decisione da prendere c'è senz'altro molta volontà qui la forza me lo dice qui c'è un desiderio di un qualche cosa qui si vuol chiudere un cerchio di un qualche tipo quindi dobbiamo decidere la strada da percorrere magari dobbiamo proprio fare un viaggio dobbiamo decidere che cosa fare dobbiamo sottoporci ad un controllo qui mi fanno pensare proprio ad un controllo da effettuare proprio per poter fare un viaggio per esempio viaggio in tutti i sensi quindi un viaggio vero fisico che dobbiamo spostarci da un punto a quell'altro oppure semplicemente un cambiamento di un qualche tipo non so se mi spiego ma vediamo un attimo i tarocchi che senz'altro ci saranno spiegare sapranno spiegare benissimo allora per il quarzo rosa quarzo rosa ok il fante di bastoni andiamo a vedere per il quarzo la settimana del quarzo rosa il 4 di bastoni la luna vedi per il quarzo rosa come sarà la settimana come la trascorreranno il 2 di spade ma guarda e il 6 di denari qui siamo proprio a un bivio a un bivio e non sappiamo che strada prendere qui siamo molto dibattuti potremmo decidere semplicemente di prendere del tempo capito di rimandare una scelta di rimandare ma magari non noi cioè o siamo noi che dobbiamo prendere una decisione o qualcuno deve decidere per noi quindi da qui mi viene da pensare all'avvocato magari avete una causa o semplicemente aspettate una risposta dal vostro legale capito che voglio dire quindi tutte queste cosette qui fatto sta che qui vuoi per paura vuoi perché non ci si vede chiaro vuoi perché la situazione ancora non è matura per poter andare avanti qui c'è un po le carte mi parlano di perdita di tempo nel senso che non sapendo che strada prendere si piglia del tempo ecco praticamente quindi qui mi fanno vedere un pochino questo durante questa settimana vediamo un po ci potrebbe essere anche una situazione che voi vorreste proprio fare che però come dire non vanno avanti indietro cioè questa ansia di dirlo dio devo fare devo andare qui e là qui vedo un pochino di nervosismo ma c'è anche le carte mi fanno vedere una riunione magari che potrebbe essere una riunione di lavoro molto importante ok quindi tutta questa situazione potrebbe riguardare il vostro lavoro dovete prendere una decisione non sapete vedi e non saprete che strada prendere qui ci sarebbe bisogno di una decisione netta e drastica per uscire da questa situazione però per ora non l'abbiamo non l'idea abbastanza chiare e quindi insomma qui c'è una specie di non voglio dire den pass però di un po d'attesa e di tempo che passa si vedi di nuovo ma guarda andiamo a vedere un pochino segni zodiacali se ci aiutano qui come stavo dicendo ci potrebbe essere un viaggio che magari non sapete allora qui c'è il segno dei gemelli coinvolto il segno del toro qui ci potrebbe essere anche un viaggio che magari non sappiamo se fare o meno cioè sono tante le cose diciamo che il nocciolo quello che più mi parla di questa stesa è questa paura questo timore o diciamo questa situazione poco chiara un qualcosa che vi è poco chiaro o proprio perché come situazione ancora non si è palesata non è chiara va bene o proprio perché voi non avete ancora le idee chiare perché qui c'è anche la decisione quindi è una decisione che tarda ad arrivare che c'è molta titubanza e di conseguenza ansia nervosismo decisione come abbiamo detto che potrebbe dovervi arrivare da qualcuno quindi come dire finché questa persona questa situazione non prende una via ben netta io non posso fare nulla non so se mi spiego quindi magari la decisione non la dovete prendere voi ma riguarda la vostra vita ovviamente ok andiamo a vedere ancora qualche segno zodiacale in più che cosa ci dicono il segno del cancro quali altri segni zodiacali vedete la bilancia aiuto ok allora qui poi è volato il segno del leone l'acquario segno dei pesci dello scorpione che è uscito anche lui e i pesci vengono riconfermati io vi tirerei anche un paio di carte degli oracoli che sono quegli oracoli belli che vi ho detto mi piacciono tanto vediamo se li trovo eccoli qua si anche questi vanno bene vediamo che cosa aggiungono alla vostra settimana perché sono proprio parlanti anche queste carte qui poi chiedo magari altri due oracoli vediamo cos'altro ci dicono però qui molto mi parlano di una settimana in quella maniera lì qui c'è anche un'amica o un amico che potrebbe o non farsi sentire o farsi sentire in modo strano quindi non lo so magari con delle parole un po strane che non capiamo bene magari ci parla di un qualcosa sai quando uno dice ma che gli prende a questo a questa insomma anche cose di questo tipo qui parla di amore vero la carta amore vero cos'altro e la solitudine vedi qui ci potrebbe essere un affetto che magari ci ma self love quindi qui praticamente le carte ti invitano all'amore ti invitano all'amore verso te stesso o te stessa dipende naturalmente chi sei chi sei chi sei tu magari stai sentendo qualcuno nel senso c'è l'amore nella tua vita c'è una persona che ti piace o che nutre interesse nei tuoi confronti però è lontana da te perché qui c'è comunque la la solitudine qui parla di amore in solitudine quindi vedi te che cosa può voler dire per la tua vita naturalmente io qui che cosa ci vedo ci vedo una settimana un po così molto all'insegna dell'attesa e del rimandare qualcosa un po di nervosismo stiamo aspettando qualche cosa anche se non è una settimana negativa assolutamente anzi tutt'altro fammi sapere se questa decisione famosa poi arriva durante questa settimana o se invece ci vuole un pochino più di tempo ti leggo nei commenti ok eccoci qua vediamo l'avventurina verde che settimana ci promette allora andiamo subito a chiedere ai tarocchi ma prima di chiedere nei dettagli insomma cosa esattamente accadrà vediamo grazie ai miei oracoli un pochino le energie della settimana quindi come butta in poche parole già mi danno un pochino la strada ok mi dicono un po dove andiamo allora la settimana per le persone che hanno scelto l'avventurina verde cosa accadrà ok qui c'è la devozione avventurina verde cosa accadrà per l'avventurina verde il viaggio guarda perché vi dico ascoltate entrambe le stese anche nell'altra stesa è uscita questa carta il viaggio cos'altro vedete per l'avventurina verde la pausa le notizie cos'altro accadrà e il possesso ma allora qui mi sembrano abbastanza chiare poi ma magari ci possono parlare di diverse situazioni qui vedete vedete un pochino voi la vostra situazione personale allora qui mi pare evidente dove mi cadono più gli occhi è naturalmente questa pausa qui c'è questo bimbo che dorme ok sta dormendo sta riposando quindi uno che dorme non parla non vede non parla non si fa se non fa nulla è lì che lascia passare il tempo lascia andare le situazioni allora qui ci potrebbe essere guarda proprio letteralmente poi chiediamo ai tarocchi andiamo a vedere ovviamente però ci potrebbe essere o un viaggio che non ci va di fare non ci andrebbe di fare ma lo dobbiamo fare in un qualche modo ok ma non ci va assolutamente di fare oppure proprio a cui dovremo nostro malgrado rinunciare rinunciare va bene qui fanno vedere un viaggio che può essere anche un viaggio inteso come cambiamento una realizzazione un cambiare una posizione un cambiare qualche cosa capito che voglio dire perché quando uno viaggia come minimo cambia posizione va da un posto a un altro comunque detto questo è la devozione quindi qui c'è un qualcosa a cui noi teniamo molto a cui noi teniamo terremmo diciamo così però accanto a questo viaggio c'è questa pausa quindi viaggio e pausa insomma vanno d'accordo quindi qui già queste carte mi possono viaggio per l'amor di dio come ti ho detto può essere un viaggio in tutti i sensi può essere un'uscita fra amici a cui a cui c'è terresti molto può essere un qualcosa che tu devi fare capito che voglio dire ecco forse ci dovrai rinunciare ok la pausa quindi non dire non lo farò mai più però la pausa come dire come dire per il momento non è il momento come si dice insomma potrebbe essere un fermo un fermo su un qualche cosa una situazione che non va che non riesce ad arrivare alla sua realizzazione e bla 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 siccome ci sono anche però le notizie qui accanto dai faccia c'è questa accanto a questa pausa si può trattare anche di notizie importanti che magari tu stai aspettando che vorresti ricevere capito che però non arrivano quindi magari un invito a cui tieni molto che non arriva un augurio di buon compleanno che non arriva e bla 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 va bene andiamo a vedere andiamo a vedere con i tarocchi allora la settimana per le persone che hanno scelto l'avventurina verde allora per l'avventurina verde come sarà la loro settimana cosa accadrà guarda qui subito la torre vedi qui c'è un qualcosa di imprevisto di imprevedibile di imprevisto di imprevedibile che potrebbe accadere una situazione proprio forse magari che si ferma capito che non va o che è già accaduta magari è già accaduta sta torre andiamo a vedere andiamo per gradi la settimana dell'avventurina guarda torre otto di spade queste sembran carte per me il nove di bastoni che bene o male guarda anche lì mi parla di pausa guarda pausa e pausa ragazzi e ragazzi qui c'è una situazione in stallo c'è un qualcosa non va ne avanti e ne indietro vedi noi abbiamo come se avessimo le mani le gaffe come dire non ci posso fare niente posso solo aspettare guarda io mi sembra mi parli a me ok posso solo aspettare non posso fare altro andiamo a vedere cos'altro per l'avventurina verde qui mi sarà scoperchiata la luna la luna ed effettivamente la luna è buio la luna c'è la notte quindi di notte non è proprio buio pesto però non è neanche la luce solare quindi si vede non si vede come si dice la luce in fondo ai tunnel si vede non si vede tiriamo un'altra carta per l'avventurina verde la settimana dell'avventurina verde ok il 4 di denari quindi io credo che qui stiamo aspettando qualcosa da qualcuno magari allora magari un qualche per esempio o un dono proprio qui c'è il pacco regalo mi fanno vedere le carte vedi magari un dono tutti i sensi quindi aspettiamo una guarigione aspettiamo un regalo aspettiamo un invito aspettiamo e ne so io o vorremmo desidereremo però qui ho paura che non arrivi ora vado a chiedere poi conferma di nuovo agli oracoli e non è detto l'ultima parola magari mi parlano di un'altra cosa qui diciamo una settimana un po si guarda un po quello che è del mazzetto di là del quarzo rosa magari con frasi con parole diverse magari una situazione diversa però il succo il nocciolo della questione è l'attesa il tempo che deve passare oppure oppure qui del tempo è già passato e stiamo lì stiamo aspettando tutti impauriti diffidenti è come qui se fossimo sfiduciati non avessimo più la fiducia non avessimo più sai quando uno è lì diffidente che dice ma io a questa cosa non ci credo non ci vedo chiaro voglio essere auto auto capito e magari si prende pure del tempo diciamo così per vedere per vedere una situazione in chiaro diciamo che qui è successo o sta succedendo un qualcosa di assolutamente imprevisto che arriva o che è successo già e che vi fa vivere nel momento di adesso si parla di una settimana e bambine per l'amor di dio non della vita per carità del signore va bene e che vi tiene ferme che arriva a fermarvi mi viene da pensare anche a una macchina che vi può lasciare a piedi da queste arti capito magari state viaggiando state andando da qualche parte vi fermano o questo green pass vi ferma che ne so io capisce un movimento fermato quindi può essere anche questo andiamo a vedere cos'altro hanno da aggiungerci queste carte visto che non è che siano state poi così generose diciamo sì con questo mazzetto cos'altro vedete per l'avventurina verde per la settimana cos'altro vedete per questa aspetta cos'altro vedete per queste persone persone ok le memorie la felicità e il discernimento ho fatto bene a tirare queste carte le carte promettono guarigione se di questo che temete promettono felicità promettono la risoluzione di tutti i vostri mali almeno di cosa vanno parlato queste carte ecco di questo di quello a cui avete pensato loro vi dicono non ancora non in questa settimana ma lo risolverai questa questo qualcosa diciamo a cui tieni molto questo passato diciamo così a cui tieni molto lo risolverai guarda qui c'è raccolta tenesa lo risolverai qui non ho il minimo dubbio se si parla di notizie che sta aspettando queste arriveranno se si tratta di guarigione questa arriverà io ho pensato a quella ovviamente eccetera eccetera quindi qui le carte sono molto 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 benevole ok magari dentro di te lo sai già che risolverai però le carte diciamo se lo te lo confermano andiamo a vedere un pochino anche questi oracoli che cosa ci dicono poi tiro i segni zodiacali cos'altro vedete per l'avventurina verde o enjoyment qui c'è proprio la gioia la gioia proprio intesa come gioia la felicità guarda ma anche proprio come divertimento quindi senz'altro qui potresti di nuovo tornare a divertirti o potrebbe esserci anche un momento proprio di divertimento durante la settimana e quindi un è che la cosa magari semplicemente proprio una festa ok che puoi che può fare un qualcosa e celebri devi celebrare con qualcuno visto c'è sto pacco legalo e lo vedo guarda content la contentezza e la gioia quindi qui qualsiasi sia il tuo problema che ti ha fatto un po' crollare che ti ha destabilizzato che ti fa sentire abbastanza di ecco di m ok lo risolverai magari non questa settimana perché le carte mi parlano di pausa di lungaggini di rallentamenti bla 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 da andare a spizziche bocconi però lo risolverai ma in modo positivo in modo felice guarda e qui addirittura c'è la perfezione il perfezionismo quindi meglio di così si more io non vado più a chiedere nulla perché come risposta mi piace non andiamo a svegliare il can che dorme si dice dalle mie parti quindi se entro la settimana non arriva non ti non mollare mi raccomando vediamo l'avventurina verde segni zodiacali che cosa dicono quali segni zodiacali vedete coinvolti allora qui c'è la bilancia quindi come segno zodiacale come ascendente come luna va bene quindi due luminari e l'ascendente la vergine quali segni zodiacali vedete coinvolti in tutte queste vicende poi qui c'è il segno del cancro il sagittario quali altri segni zodiacali vedete coinvolti i pesci i gemelli cos'altro quali altri segni zodiacali segno del toro e l'immancabile segno dell'ariete naturalmente va bene ragazze ragazzi io di nuovo vi ringrazio per l'affetto l'amore oceanico che mi dimostrate sempre scusate se sono un pochino meno presente ma non ho molto a parte non mi sento bene ma non ho neanche la festa per stare proprio qui comunque questa settimana ci proverò a essere un pochino più 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 presente io vi aspetto nei commenti e vi aspetto naturalmente anche al mio prossimo video un bacio a tutti e grazie 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 ciao eccoci qua vi lascio ai miei vino